Il punto di ritrovo l'anno scorso è stato questo, Corso Venezia, Angolo via Palestro. Da qui il corteo ha proseguito la sua marcia fino al Duomo. Domani invece le strade rimarranno così, semivuote. Peccato perché era un appuntamento fisso diciamo. Abbiamo sempre partecipato e quindi domani non portare la bambina, non essere con la compagna lì sarà dura. Il 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, i milanesi come tutti gli italiani lo celebreranno a casa. Il suo pensiero a chi andrà domani? Andrò a tutti i caduti della guerra che ci hanno permesso di avere la libertà e la democrazia. E poi il coronavirus che speriamo che venga la libertà anche per quelli, la liberazione. Un anniversario che anche a Carla Bianchi Iacono vivrà in casa ricordando suo padre, l'ingegner Bianchi, fucilato nel campo di concentramento di Fossoli. La liberazione è stata una bellissima giornata per tutti gli italiani 75 anni fa, ma un po' meno per chi ha avuto i propri cari morti perché hanno scelto di morire perché questo paese fosse libero. Qual è stato il ruolo, il contributo che i cattolici hanno dato alla resistenza? Il ruolo più importante è stato quello della salvezza di chi era in pericolo, perché il cristianesimo appunto proclama aiutare chi sta in pericolo, aiutare il prossimo nelle forme dovute. Il nascondere i perseguitati, portarli oltre confine. Grazie. Grazie. Grazie.